Sì, è il Diltelli, signora. Benvenuti, ben arrivati. Tu sei Cosimo? Sì, siamo sentiti al telefono, lui è mio fratello. Uno diventa ricco, famoso, e poi passa la vita in culo alla luna a pulire la bava alla moglie. Non voglio rotture di coglioni in questi giorni. E guardami in faccia quando facciamo. Buongiorno a voi, come va? Tutto bene. Faccio una pausa, guarda che meraviglia. Vai a casa di Mieli, mi ci dai uno strappo? Abito giù di là. Sì, guarda. Questo ferro dove si è stato? Sono stato in collina, ci ho pure scopato, è stato bellissimo, felice. È succedo a tutti, stasera è toccato a te. Passa giù con le mani. Ma cosa è successo? Ma tanto non è che dovete tornarci qui, no? Questa è la vita vera, la vita vera, smegliate. Perché non ci stai bene qua? No, manca a Morice, verrei.